Buongiorno ragazzi e ragazzi, eccomi qua. Allora stamattina mi devo preparare perché sto per uscire e visto che ieri tra vari ed eventuali non sono più riuscita a raccontarvi come avevo realizzato il make up, tutto tono su tono e tutto realizzato con dei rossetti che vi ha incuriositi tantissimo, stamattina lo riproduco insieme a voi. I prodotti che andrò ad utilizzare per realizzare il look che mi avete visto ieri sono tutti i prodotti di Wicon della nuova collezione Nude Addiction che Wicon mi ha gentilissimamente inviato per cui ringrazio ancora una volta sentitamente il brand e anche voi, lo sapete. E quindi ecco, proveremo insieme i nuovi prodotti della collezione Nude Addiction che sono prodotti appunto dedicati a chi ama un make up naturale, quindi un make up no make up che però crea un risultato sul viso molto molto bello. Quindi partiamo subito con il primo prodotto. Il primo prodotto con il quale inizio il mio make up è lui, come vedete si tratta di un primer, si chiama Screen Primer Base Viso con un SPF 25, quindi è un primer con una protezione solare 25 che è già un'ottima protezione. Si presenta in questo tubo super comodo, un po' basic ma davvero ottimo, ha il beccuccio per dosare meglio il prodotto e la consistenza è questa. È una cremina abbastanza fluida, ora ovviamente io non la spreco, la vado a trasferire sul viso, che si stende molto molto facilmente e soprattutto si assorbe molto facilmente. Io inizio a truccare anche la mia fronte perché le sopracciglia sembrano essere quasi quasi guarite, per cui inizio timidamente ad applicare anche i prodotti qua. La sensazione di questo primer sulla pelle è molto molto piacevole perché appunto è abbastanza fluido e si stende facilmente, si assorbe facilmente. Non rimane appiccicoso ma ora io prima di andare ad applicare lo step successivo che sarà il fondotinta lo faccio asciugare un pochino, cosa che vi consiglio sempre e in generale con questa tipologia di prodotti. Mentre il primer si finisce di asciugare vi dico che oltre ad essere un primer quindi che va ad aiutare il makeup a durare di più, ha anche un effetto smooth, quindi va a levigare un pochino la nostra pelle e ad aiutarci se abbiamo pori particolarmente dilatati oppure rughette o zone un po' da riempire. La sensazione del prodotto non è siliconica quindi è appunto come vi dicevo poco fa un prodotto leggero però allo stesso tempo va a dare una mano a levigare tutto il viso e la protezione solare d'estate è d'obbligo. Quindi lo trovo un ottimo prodotto che tra l'altro ci fa anche risparmiare tempo perché ci permette di mettere insieme appunto la protezione solare con un primer che ci aiuta a far durare di più il makeup e cosa buona non risulta appiccicoso quindi fa durare il makeup però non risulta fastidioso. Ok ora che il mio primer si è asciugato è ora di passare alla base viso per la base viso in questa collezione è uscito questo prodotto che non è definito proprio un fondotinta ma più uno skin balm questo perché si tratta di un prodotto dalla texture super fluida e che va quindi a dare un aspetto alla nostra pelle molto molto naturale. È un prodotto dalla coprenza da leggera a media è un pochino stratificabile ma non arrivate mai a una coprenza piena proprio perché si prefigge lo scopo di andare a uniformare la nostra pelle ma lasciando l'aspetto del viso molto molto naturale proprio come quando si vuole appunto un look makeup no makeup. Per quanto mi riguarda ho scelto la colorazione 2 questo perché avendo comunque poco pigmento all'interno e poi comunque siamo in estate ho deciso di non prendere appunto la colorazione più chiara ma la numero 2. Il pack è il classico di Wicon come vedete i toni sono tutti giocati sul nude appunto perché la collezione si chiama nude addiction la consistenza del prodotto è molto fluida quindi appunto lo shaker un pochino prima di prelevarlo e poi ne faccio un pump vedete è davvero molto molto liquido il colore è questo e come vedete è un colore comunque dal sottotono abbastanza neutro e è perfetto per me al momento lo vado ad applicare con un pennello scelgo il pennello e non la spugnetta perché essendo un prodotto già abbastanza diciamo sheer con la spugnetta mi andrebbe a dare troppa poca coprenza mentre lo preferisco decisamente con il pennello ora ovviamente ne ho preso solo un pump che non mi basterà per tutto il viso ma intanto iniziamo a fare l'applicazione per applicarlo utilizzo un pennello un pochino fitto e inizio picchiettandolo dal centro del viso e tirandolo poi verso l'esterno faccio prima metà del viso in modo che possiate poi apprezzare la differenza tra un lato e l'altro quindi tra il lato con il fondotinta e il lato completamente nudo ovviamente essendo fluido si stende molto 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 facilmente scusatemi se guardo da questo lato ma ho lo specchio la coprenza come vi dicevo è leggera penso possiate vederlo lascia intravedere comunque la nostra pelle al di sotto quindi se avete dei brufoletti o delle macchie magari un po' cariche probabilmente non riuscirete a coprirle al 100% ma se invece non necessitate di tantissima coprenza amerete questo prodotto perché vi dico che lo amerete perché è perfetto per questo periodo estivo in cui abbiamo sicuramente bisogno di una base che non sia troppo pesante che non vada a darci fastidio e da questo punto di vista questo prodotto è perfetto perché davvero molto molto leggero sulla pelle praticamente non si sente e soprattutto appunto vi lascia questo effetto naturale per cui sembra che non abbiate proprio nulla sul viso ma allo stesso tempo avete un aspetto sicuramente uniformato e le discromie risultano coperte e lo potete già notare dal lato del mio naso coperto rispetto a quello no come vedete qua i rossori sono belli in evidenza qua invece risultano praticamente coperti quindi ecco qua il lato del viso con il fondotinta applicato contro il lato completamente nudo io credo che la differenza sia ben evidente guardate anche la zona sopra le sopracciglia dove io ho comunque delle macchie solari importanti qui come vedete è ancora tutta esposta qua invece è stata comunque mascherata io le ho praticamente quasi simmetriche su entrambe le sopracciglia sopra entrambe le sopracciglia perché diciamo ho avuto qualche anno fa un problema dermatologico piuttosto importante se mi seguite da un po' lo sapete e purtroppo la nostra pelle ha una memoria diciamo di ciò che le è successo e nonostante quando avesse avuto quel problema sia stata molto attenta con l'esposizione al sole quindi non mi ero mai esposta l'anno dopo quando sono tornata al mare nonostante la protezione 50 la mia pelle purtroppo ha reagito in questo modo poi ne ho parlato con vari dermatologi e mi hanno spiegato che appunto è una reazione diciamo comune normale perché appunto la nostra pelle va in difesa a questa memoria insomma di difesa dell'infiammazione che io avevo avuto e quindi in quella zona in queste zone purtroppo ma anche un po' generalizzate su tutto il viso mi sono uscite parecchie discromie e parecchie macchie queste sono sicuramente quelle più evidenti ma per tornare al nostro fondotinta come vedete ha fatto direi un egregio lavoro quindi ecco qua l'effetto del fondotinta applicato su tutto il viso il finish è molto naturale appena applicato risulta un po' bagnato ci mette qualche minuto ad asciugare l'effetto comunque non diventa mai completamente matt quindi è un risultato molto naturale che se vogliamo rimane anche un pochino tridimensionale sul viso e se non avete bisogno di una cipria potete anche lasciarlo così io ho dato il periodo estivo in cui fa davvero tanto caldo e comunque si tende a sudare ovviamente preferisco fissarlo con un velo di cipria cosa che vi consiglio di fare anche se avete la pelle mista o grassa se invece l'avete molto molto secca potete lasciarlo anche così perché comunque si asciuga e tende ad autosettarsi come vi dicevo io andrò adesso a fissarlo un pochino con una cipria e utilizzerò appunto la cipria uscita in questa nuova collezione questa cipria è uscita in varie colorazioni quindi potete scegliere la colorazione che più si adatta al vostro incarnato ma è uscita anche in versione translucent quindi in versione bianca che poi in realtà ovviamente è in colore io ho deciso di prendere questa perché preferisco decisamente le ciprie che non vanno a interferire con il colore del fondotinta quindi ora prendo un pennellone bello ampio e vado a fare la mia applicazione questa cipria risulta molto molto sottile non so se riuscirò a farvela vedere dallo swatch ma è davvero una polvere super sottile super micronizzata che quindi va a mattificare ma senza fare strato o senza lasciare la pelle diciamo troppo secca quindi mi piace ed è adatta sicuramente anche a chi come me ha una pelle appunto tendenzialmente secca quindi è una cipria che mattifica ma non va a farvi l'effetto diciamo polveroso sul viso ok ora vado a fare un leggerissimo contouring con questa palette sempre di Wicon che vi ho già mostrato tante volte che mi piace tantissimo è questa palette che contiene tutto il necessario per andare a fare il contouring utilizzerò come faccio sempre la parte questa terra diciamo più fredda e più chiara per andare a scolpire con questo pennello che è perfetto quindi mi posiziono in questo modo prima picchietto e poi sfumo l'effetto è davvero super naturale però necessario come vedete per ristabilire un po' i volumi del viso che ovviamente applicando il fondotinta si perdono e ora direi di dedicarci al make up occhi poi finiamo il viso e mettiamo finalmente all'opera i rossetti andrò infatti a ricreare tutto il look, il resto del look quindi sia per quanto riguarda blush che ombretti che ovviamente il rossetto con le famose tinte di Wicon che in occasione dell'uscita di questa nuova collezione sono state proposte in nuove colorazioni così come sono uscite nuove colorazioni delle matite labbra abbinate che vi mostrerò tra poco per quanto mi riguarda ho a disposizione tre colorazioni dei rossetti che ovviamente adesso vi swatch e vi faccio vedere meglio ma vi anticipo che sono la colorazione 180, 183 e 186 swatch e arrivo subito ecco qua gli swatch dei tre rossetti la colorazione 180, la 183 e la 186 come al solito al momento voi li vedete un pochino più giallini rispetto a come sono in realtà quindi più tardi vi pubblico sempre qui su stories delle foto a luce naturale in modo che possiate vederli meglio comunque si tratta di tre tonalità direi nude rosate che vanno dalla più chiara alla più intensa e parto con il make up occhi utilizzando la numero 180 che è diciamo un nude tendente leggermente al malva e vi faccio vedere ora come lo applico ne metto una piccola quantità sul dorso della mia mano se ce l'avete potete utilizzare anche una di quelle palettine in plastica fatte apposta sarebbe meglio ma io al momento non ne ho una disponibile poi prendo un pennello abbastanza piatto e inizio la mia applicazione la formula di questi rossetti si adatta benissimo anche all'utilizzo sia sugli occhi che sul viso perché non si asciugano immediatamente ma vi permettono di lavorare il prodotto sfumandolo quindi sono perfetti anche per essere utilizzati come ombretti vedete che l'applicazione sta risultando super veloce e anche super facile guardate ed ecco qua l'applicazione fatta su entrambi gli occhi ci ho messo davvero 2 nanosecondi e il prodotto come avete visto si è steso proprio super facilmente ora io giusto per andare a dare un tocco di definizione in più vado a mettere il colore 186 nella parte finale in modo da dare una leggera profondità anche se devo dirvi che per un look veloce mi piace anche così comunque prelevo una piccola quantità come ho fatto prima del colore 186 sempre sul dorso della mia mano e con il pennellino ne prelevo un po' e vado a picchiettare ovviamente quando applicate questi prodotti in questa maniera dovete iniziare piano piano prelevando poco prodotto e sfumandolo per bene però vi assicuro che si lavorano in maniera super super semplice ok ecco qua il risultato un look molto fresco super veloce davvero da make up in 3 secondi è una tecnica che potete sfruttare soprattutto quando siete magari in vacanza e non avete né voglia né tempo né magari a disposizione tanti prodotti con un solo prodotto praticamente riuscite a fare tutto il make up ora per completare un pochino il look occhi applico una leggerissima lina di eyeliner che vado a fare con questo nuovo eyeliner uscito sempre nella collezione nude addiction lui si chiama micron tip waterproof eyeliner quindi un eyeliner super resistente e vi posso testimoniare che è così perché ieri l'ho indossato da mattina a sera e nonostante il caldo a mezzanotte era ancora lì fermo cioè una roba incredibile poi per me che ho gli occhi che tendono comunque a lacrimare la particolarità è la sua punta davvero super super piccina che vi permette quindi di ricreare delle linee molto precise e anche molto sottili o più diciamo spesse a seconda di come preferite lo trovo ottimo faccio l'applicazione off camera perché mi serve un pochino di concentrazione ecco qua riga di eyeliner abbastanza discreta non troppo esasperata perché comunque ecco voglio cercare di mantenere il look più nude possibile e dopo aver applicato l'eyeliner è giunto il momento del mascara in questa collezione è uscito questo nuovo mascara che si chiama Good Game Extra Volume Mascara ha uno scovolino abbastanza particolare in setole normali ma da questa forma un po' panciuta al centro come vedete e l'ho provato ieri sulle mie ciglia da una buona definizione non un volume eccessivo ma è di quei mascara che vanno un pochino diciamo fatti lavorare nel tempo prima che diano il meglio di sé infatti la formula è leggermente liquidina ma tenderà ad addensarsi con il tempo faccio una prima passata e vi faccio vedere l'effetto io vado prima ad applicarlo a zig zag partendo dalla base delle ciglia in modo che tutte le mie ciglia piccole sfigatelle si impregnino di prodotto e poi vado a pettinare verso l'alto ruotando anche un pochino lo scovolino in questo modo direi che la cosa buona è che non appiccica eccessivamente le ciglia anche se fate più passate quindi tende a lasciarvele comunque abbastanza separate tenete comunque conto che io ho delle ciglia molto molto sottili quindi è molto semplice che si incollino l'una all'altra ecco qua l'effetto di una passata di mascara e qui come vedete ho delle ciglia qua invece sembra che io non le abbia per nulla come vedete su di me appunto non dà un volume esagerato almeno non al momento che appunto appena aperto però mi piace molto perché mi sembra dare una buona definizione e soprattutto anche una buona lunghezza in curva anche abbastanza penso lo possiate notare quindi ora vado a fare l'applicazione anche da questa parte ecco qua mascara applicato da entrambi i lati ho sporcato anche leggermente le ciglia inferiori giusto per far vedere che le ho perché altrimenti praticamente non si vedono il mascara mi piace tenete conto che comunque secondo me lascia un effetto abbastanza naturale un po' in linea con il mood della collezione mi piace tantissimo il fatto che non si sbricioli e non si sciolga neanche con il caldo durante la giornata quindi lo applicate al mattino e potete stare sereni di non ritrovarvi come un panda già dalla fine mattinata o il pomeriggio quindi è ottimo da questo punto di vista e ora è il momento di dare un po' di vita a queste guance bianchine e per farlo utilizzo la tinta labbra numero 183 che tra i rosati che ho io è quello che tende forse leggermente più al corallo in questo caso per fare l'applicazione vado a fare in questo modo faccio tre puntini e poi prendo un pennello e sfumo ovviamente dovete essere veloci nello sfumare perché essendo una tinta labbra tende ad asciugarsi abbastanza velocemente ora io ne ho messa una bella quantità ma mi piace insomma l'effetto visibile come vedete si sfuma comunque facilmente solitamente faccio questa operazione con un pennello duo fibre che preferisco ma come vedete anche con un pennello a setole normali riesce comunque bene e voilà tra l'altro questo colore è davvero bellissimo bellissimo è un colore che anche come rossetto secondo me è fenomenale è davvero bello 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 e guardate per me è favoloso e ora direi che è giunto il momento di occuparsi delle labbra ho qui da mostrarvi tre matite appunto tre nuove colorazioni tra le tante nuove uscite con questa collezione e le colorazioni che ho io sono queste e sono rispettivamente la numero 75 questa che è lei questa qui che è questo nude più tendente al marroncino poi abbiamo la numero 77 eccola qui questa è in mezzo che si chiama proprio nude e infine questo colore bellissimo che è il numero 82 che è davvero fenomenale anche qui vi metto poi gli swatch con le foto a luce naturale allora per questa mattina scelgo di applicare la tonalità 77 che si chiama proprio nude perché poi voglio andare ad applicare il rossetto più chiaro che è il numero 180 quello un pochino più tenente al malva quindi vado ad applicare lei che mi farà il bordo leggermente leggermente più scuro e più definito cosa di cui ho molto bisogno perché le mie labbra non hanno praticamente definizione proprio 00 definizione quindi ho bisogno di una matita che mi aiuti in questo senso quindi la applico e vi faccio vedere il risultato ecco qua la matita 77 che ho applicato in realtà solo sul bordo lasciando libera la parte centrale delle labbra perché appunto andrò a mettere una tinta che solitamente non ha bisogno della matita appunto per aggrapparsi comunque si tratta sempre di una scelta personale se preferite applicarla su tutte le labbra potete tranquillamente farlo tra l'altro queste matite sono molto morbide molto semplici da stendere e sono bellissime anche utilizzate da sole come rossetto sapete che io d'estate lo faccio spessissimo e lo farò sicuramente anche con loro quindi ora vado a completare le mie labbra applicando la tinta 180 l'applicazione di queste tinte è davvero molto molto semplice perché appunto non si asciugano immediatamente scusate non posso parlare applicare nello stesso momento mi taccio un attimo e voilà tra l'altro trovo che rispetto alla formula di qualche anno fa questa nuova versione diciamo sia migliorata migliorata soprattutto a livello di comfort infatti se qualche anno fa queste tinte tendevano a seccare secondo me un pochino di più le labbra devo dire che in questi giorni io le ho indossate e le ho sentite sempre molto molto confortevoli tenete conto che comunque dovete avere di base le labbra abbastanza ben idratate ma questo sempre quando applicate dei rossetti liquidi matte quindi questo è il mio risultato finale fatemi sapere che cosa ne pensate di questo look totalmente ricreato praticamente con un paio di prodotti solo con i rossetti su occhi guance e labbra e fatemi sapere che cosa pensate di questa nuova collezione di Wicon e soprattutto fatemi sapere se gradite una review più approfondita come al solito vi ringrazio vi mando un bacione vi auguro buona giornata e ci sentiamo più tardi di questo vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio Grazie a tutti